Le attività d'indagine finalizzate all'individuazione delle disponibilità economico-imprenditoriali riconducibili ad appartenenti all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, svolte dal nucleo investigativo dei Carabinieri di Palermo, hanno portato all'emissione da parte della locale Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia, di un provvedimento di sequestro di beni per un valore complessivo di circa 500 mila euro a carico di Francesco Terranova e di Vito Traina. Terranova, soggetto sottoposto a indagini per essere il reggente della famiglia mafiosa di Villa Abate, indagato nell'ambito dell'operazione denominata Luce per il reato di associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni e riciclaggio, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e quindi a ordinanza di custodia cautelare in carcere lo scorso 26 aprile ed è attualmente detenuto. In passato era stato condannato definitivamente per il ruolo di vertice che aveva assunto nel contesto associativo villabatese ed aveva finito di scontare la pena nel 2021. Vito Traina, invece, indagato per essere ritenuto affiliato alla famiglia mafiosa di Villa Abate nell'ambito dell'operazione denominata Luce per il reato di associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni e riciclaggio, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e quindi a ordinanza di custodia cautelare in carcere il 26 aprile scorso. Anche lui è attualmente detenuto. Il provvedimento di sequestro riguarda l'impresa individuale intestata Traina, azienda per la quale gli inquirenti ritengono che sia partecipata occultamente da Francesco Terranova. La ditta operava nel settore del commercio delle pedane in legno, verosimilmente avvalendosi di una posizione di forza legata al ruolo mafioso assunto dagli indagati ed è considerata dall'autorità giudiziaria un'impresa mafiosa che operava sul mercato in regime di monopolio, quindi non ammettendo concorrenza, sul comprensorio villabatese. Sono state sequestrate somme di denaro contante, un conto corrente e un'impresa individuale intestata a Vito Traina ma di fatto riconducibile a Francesco Terranova.